Vado a picchiettare il prodotto in modo molto molto leggero, per cui questa è una zona estremamente delicata senti un po' di nuovo puf 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 senti un po' di nuovo tic-cac, tic-cac up, up, up ciao cari ciao cari ciao come stai? tutto bene? si anch'io sto bene allora oggi sei qui per un bel trucco giusto? e cosa avevi pensato? in particolare per che occasione è? ok quindi comunque vuoi risultare vuoi un po' al centro dell'attenzione vuoi attirare l'attenzione ok? quindi un make-up luminoso bene 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 magari al rosato ci pensiamo dopo ok allora prima di iniziare io mi igienizzo le mani ovviamente ovviamente le mie mani sono lavate ma è sempre buona norma bene bene io adoro l'odore delizio di santimani è un po' strano quindi si sto pensando già un po' al tuo trucco stranissimo però ti posso dire una cosina? ti vedo un po' stanca è possibile? allora sai cosa faccio? così voglio provare a rilassarti proprio con questo trucco quindi usare un po' una tecnica smr non so se ne hai sentito parlare su youtube esatto quindi parlare a bassa voce e fare dei rumorini e farti anche un po' mentre ti trucco un po' un massaggio rendere tutto il più calmo e rilassante possibile cosa ne dici? ok allora prima di iniziare con il make up però ho visto che ti è rimasto qualche qualcosina qualche residuo di trucco soprattutto qui sulle ciglia quindi lo andiamo a rimuovere molto semplicemente con i dischetti di cotone e appunto voglio farti sentire questo suono chiudi gli occhi se vuoi personalmente adoro questo suono personalmente adoro questo suono e prendo due goccine di acqua micellare queste quasi finite e tutte le due goccine due goccine mi avvicino un pochino e vado con il dischetto di cotone a rimuovere a rimuovere i residui 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 di trucco tu ripeto rilassati davvero non non pensare a ciò che non ti fa dormire concentrati sulla sensazione proprio del dischetto che passa nella tua pelle è veramente rilassante quando vado a fare le pulizie del viso ad esempio mi addormento quasi è proprio una coccola in se stessi vedi che non c'era rimasto praticamente niente però non voglio poi non voglio poi che la resa del trucco fosse penalizzata insomma da questo residuo un'ultima passata e poi passiamo al vero e proprio trucco ok tra l'altro non ti ho chiesto se hai fatto una skin care ok ok se no ti avrei messo anche un po' di crema sì eccetera pensavo solo di metterti un pochino almeno di contorno occhi in modo di trattarlo bene da evitare le pieghette perchè avendo della pelle un po' sottile un po' scusami secca anche un po' sottile in realtà voglio fare in modo che il correttore non entri nelle pieghette che non secche troppo il contorno occhi soprattutto il soppa dobbiamo fissarlo con un po' di cipria ok ce l'ho qui nella mia trousse questo è una crema contorno occhi con melacrana bio e pacche di koji e anche vegan è adattissima appunto come crema per i make up perchè è fatta apposta apposta per andare la pelle più liscia prendo giusto un cuccino e vado e vado e vado a picchiettare vado a picchiettare il prodotto in modo molto molto leggero perchè questa è una zona estremamente delicata e la giupa assorbirla vado un po' anche qui perchè è importante tutto il contorno occhi non solo sotto ma anche all'interno e sopra sotto l'area perioculare possiamo passare al fondotinta ho scelto un fondotinta a bassa media coprenza perchè altrimenti è troppo 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 a eserciare le pieghette a sottolineare la grana della pelle la tua pelle è bellissima così abbiamo bisogno solo più che altro di un pochino di uniformità tutto qua bonjour e si chiama healthy mix molto leggero si sente proprio è un effetto seconda pelle e vado e vado a tamponarlo sul tuo viso con questa spugnetta leggermente bagnata e preferisco usare la spugnetta naturale piuttosto che la beauty blender è proprio la mia scelta però insomma va benissimo anche la beauty blender per essere se ce l'hai caso ok comincio dalla fronte puf 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 ci piace questo suono? puf puf chiudi gli occhi se vuoi puf vado anche proprio sulla riconfine quindi i capelli puf 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 sentiamo sul mento puf 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 e vado a sfumare anche sulle orecchie è molto importante è molto importante sfumare anche sulle orecchie riguardalo sempre sul collo puf 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 bene adesso andiamo a correggere il luminare e vado con questi due prodottini qui prima correggo con il correttore più ad alta coprenza un due tre quattro poi ecco un po' anche i rossori uno qui e uno qui direi che poi non c'è non c'è altro non hai non hai particolari imperfezioni e vado a sfumare e poi andiamo con un correttore più leggero ma illuminante della Sephora di illuminare più che altro questa zona proprio l'esterno dell'occhio fronte un pochino mento quindi qui sulla fronte e sul mento è un colore proprio leggermentissimamente più chiaro della tua pelle ma veramente pochissimo ok vado a sfumare anche qui tap 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 ora ora io andrei a fissare giusto con un niente di cipria giusto 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 sotto gli occhi per evitare le pieghette questa cipria è la velvet skin loose powder di astra chiamata polvere di riso ed è molto veramente molto leggera ne prelevo un poco fluffy e vado leggermente proprio tamponare quasi esatto crescere la cipria giusto sul contorno occhi e anche un po' sopra per settare una base che ho fatto semplicemente con il correttore bene passiamo ora passiamo ora agli occhi e allora voglio usare due palette una per i colori matt i colori di transizione e un'altra per i colori shimmer proprio brillantinati luce pura la prima è questa è una palette componibile della wii makeup cool girl powder c'è il gioco di perone fa girl power e girl powder ed è fatta in questo modo vedi tutti questi colorini sono molto molto utili tutti questi colorini soprattutto questi matte sono sfumabili bellissimi e adattissimi a fare un qualsiasi trucco giorno e sera e io vado a usare questo 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 pennellino da sfumatura qui è la Real Technique con cui mi trovo molto molto bene e vado a utilizzare questo tono un pochino più caldo questo al centro ne aprilevo un po' ne aprilevo un po' spatto via l'eccesso e questo è un colore caldo è perfetto per la transizione l'odore lo uso tantissimo e vado comincio con movimenti circolari per diciamo definire l'occhio dare tridimensionalità a volte quando sono di fretta faccio semplicemente solo questo passaggio magari metto l'illuminante sulla palpebra oppure faccio solo questo passaggio perché comunque apri molto lo sguardo questo passaggio tono proprio le ombre dove ci vogliono le ombre e quindi il riflesso rumina molto anche delle altre zone e questi ombretti in particolare si sfumano veramente molto 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 bene in due secondi perfetto e poi vado con questo ombrettino più scuro qui quindi questo marrone vado proprio a metterlo giusto all'interno proprio tamponarlo leggermente per tenere ancora di più tridimensionalità in questo modo vado a fare una cosa semplice ma super luminosa e vado a sfumare il tutto bene ne prelevo ancora un po' ne prelevo ancora un po' perfetto ancora un po' anche sull'altro occhio ok bene bene e infine con un pennello più grosso sempre della real technique molto proprio da sfumatura anche questo vado a prendere il primo colore questo qui un panna sporco un burro ecco un burro rosato e vado a definire i bordi funziona un po' come una gomma ecco sempre sempre con movimenti circolari proprio per aiutarli a definire il tutto qui anche dall'altra parte è molto comodo se appunto si sbaglia facilmente perchè sfumare è una tecnica molto 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 difficile all'inizio quindi questo trucchetto aiuta molto è molto bello anche semplicemente messo così sulla palpebra se si vuole fare un look total matte molto bene lo vado anche sempre con questo questo pennello sporco di marroncino vado a sfumare anche sotto l'occhio questo perchè non voglio esagerare voglio che ci sia una linea netta sotto l'occhio però voglio che tu abbia un appunto che sia comunque definito che il tuo sguardo sia magnetico ecco qua poi andiamo un po' a intensificare anche con con il mascare poi per la parte luminosa del trucco ovviamente entro con le dita e vado e vado a utilizzare questa palette bellissima della mulag che è in my birthday soon sweet birthday sweet ha questa texture molto bella senti il rumore e anche il dab è in questo proprio bellissimo è una palette in questo molto valida e adatta secondo me soprattutto a chi viazza perchè è piccolino ma c'è tutto l'essenziale ho voluto utilizzare l'altra palette per i matti colori di transizione perchè trovavo che l'altro fosse un po' più caldo e un po' più chiaro e più adatto al tono di pelle però anche qui ne abbiamo in abbondanza molto bene allora io vado con le dita e vado con allora io andrei più verso l'esterno con boom boom poi più all'interno con like a virgin e rich peach un mix e all'interno andai con filferi come tipo illuminante quindi ancora i capelli ok chiudi gli occhi chiudi e questo va più verso l'esterno ok ne basta veramente poco perchè è molto intenso sull'altro occhio chiudi 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 poi si no guarda che bello sulla mano spettacolare e l'ho proprio sfierato poi vado con il dito a mixare like a virgin e rich peach è una combo bellissima e vado a premere proprio quasi sul sul centro dell'occhio verso l'interno dopo andremo a sfumare ovviamente bellissimi questi due colori messi insieme sono spettacolari sono spettacolari un altro occhio chiudi 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 ti stai rilassando bene sono contenta dell'amare di ecco qua e poi all'interno vado col mignolino metto appunto ti avevo detto filfri proprio come illuminante come punto luce molto bene è uno sguardo luminosissimo adesso non ci resta allora guarda ti dirò ti farei giusto una linea di ombretto scuro utilizziamo questo che è più scuro sembra della giusto per fare una specie di eyeliner ma io farei solo proprio una riga attaccata attaccata alle ciglia per sottolinearle e per accentuare l'effetto del mascara e vado non col nero ma mixo hot jock e come si chiama taboo li mixo insieme per creare un marrone molto scuro però voglio stare sempre sul tono del marrone perchè dopo pensavo anche di utilizzare il mascara marrone perchè trovo che ti stendo all'occhio trovo che con il tuo colore di degli occhi verde nozzola stia d'incanto veramente quindi eh si ok quindi una cosa molto semplice e poi andiamo appunto con il mascara marrone io mi sono sempre trovata molto 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 bene con questo dell'Essence che è il i love extreme crazy volume brown mascara che fa veramente un volume pazzesco è super bello con mascara costa poco e te lo consiglio tanto 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 veramente di qualità e vado zig zag 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 up 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 vado un po' anche sotto leggermente e ancora guarda in giù ok questo è veramente estremamente allungante ma anche plumizzante meraviglioso zig zag zig zag zig zag zig zig zag zag up up zig zag zig zag zig zag zig zag zag up e vado anche a intensificare proprio le ciglia all'interno e all'esterno che a volte vengono un po' ignorate ma non da me ok ok il tuo sguardo è magnetico il tuo sguardo è magnetico ti sta veramente un incanto questo trucco è proprio il tuo ovviamente il mio personale pari come base viso come contouring blush ecc e andrei con questa palette che era senza titolo numero 3 che richioma in collaborazione con Cosmify è bellissima facilissima da usare super usata come puoi notare e vado ad utilizzare questa terra che è perfetta per il tuo incarnato e cerco il mio pennello da terra bronzer io ti dirai essendo sera vado con queste paste non con questo che è un po' più caldo quindi tap 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 tolgo il cesso e il segreto di un buon contouring è partire dall'orecchio qui parlo abbastanza alto ma ci fanno molto molto basso ci va fatto alto quindi ok e sfumo vado un po' anche tutto sul sul contorno del viso andando verso proprio le orecchie e sfumo vado un po' anche qui leggermente proprio bene ancora un po' dall'altro lato ecco qua e sfumo sempre bene 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 sempre con movimenti circolari ecco qua anche qui bene ora io come blush mi piace molto questo però è molto acceso e più da giorno quindi io cosa faccio? lo vado a scurire a vampirizzare un po' mischiandolo con la terra e per dargli ancora più luminosità lo vado a mischiare anche con l'illuminante quindi io faccio così proprio un mix di tutto e l'eccesso e parto da qui e arrivo qui in modo molto leggero non voglio esagerare con il blush di sera benissimo voglio giusto dare un po' di colorito via l'eccesso e ancora e come illuminante io vado direttamente con il dito e vado a utilizzare questo qui lo vado a picchiettare questo illuminante è relativamente leggero ovviamente stratificandolo diventa più più power però non so vedi non è non è pesantissimo però secondo me caricando molto lo sguardo dopo avere un illuminante troppo carico non so di sera non lo so non è non mi sembrava adatto dopo magari distogli lo sguardo lo rende insieme dal tuo sguardo e non mi va molto bene ti consiglio tantissimo anche questa palette è un salvavita comodissima in viaggio cioè in viaggio ti puoi portare questa e questa e se è a posto comodissima ultimissimo step no per un ultimo step perché mi stavo dimenticando le sopracciglia perché le già sono molto molto belle quindi così mi viene a non farle ma le facciamo semplicemente le pettiniamo ok è una cosa molto semplice e vado ad utilizzare il Benefit Kimmy Brow nella colorazione numero 3 vieni qui ecco qua vado semplicemente a pettinare vado semplicemente a pettinare le sopracciglia ecco qua bene ok per il rossetto io mi sono portata dietro qualcosa un tutto ovviamente pensavo a un rosso nude oppure qualcosa un po' più chiaro un po' più scuro qualcosa di un po' più scuro è ad esempio questo che è Vlad sempre di Erichiova dei vampireschi un rosso molto scuro un rosso marroncino che però è veramente affascinante secondo me con questo trucco però sono questo è una promozione possiamo avere un rosso classico su base fredda quindi che non ingiallisce i denti eccolo qua questo è il numero 33 di We Makeup è bellissimo molto classico senza tempo però ti dirò secondo me con questo trucco è un po' esagerato perché ho il trucco luminoso o il rossetto rosso non entrambi almeno su di te c'è uno scuro è diverso ma rosso 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 non lo so perché poi ho anche questo un po' più acceso ad esempio di rosso ne ho tanti di rossi è il numero 34 che è quello che sto indossando ora sempre di We Makeup molto bello un po' più fucsia fragola ma anche qui secondo me non è abbastanza scura e anche questo no troppo vangone ha 44 è troppo chiaro oppure possiamo avere un nude molto bello ad esempio lo 02 un nude molto da giorno sono sempre tutti di We Makeup questi mi trovo molto bene vedi un nude veramente classico del colore quasi delle tue labbra e andremmo semplicemente proprio un po' a sportare magari oppure possiamo utilizzare questo che è un po' più marroncino un po' più caldo in questo secondo me sta molto bene lo 05 sempre di We Makeup un po' più scuro ma sempre nude secondo me questo sarebbe estremamente bene oppure 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 l'ultima opzione che ho per te è un nude molto chiaro questo è celebrity skin di Jeffree Star è un nude più chiaro delle tue labbra freddo che può essere un'alternativa proprio questo dà totale attenzione agli occhi a della scelta insomma inestamente opterei quasi per questo che sono i 10 va bene e andiamo a scaricarlo e estendi le labbra fatto bene estendi le labbra questo basta veramente una passata ok e strabordiamo proprio leggermente benissimo wow meraviglioso io direi che il trucco è completo stai un incanto io ti auguro una splendida serata e mi raccomando questo weekend rilassati perché ne hai bisogno e quando vuoi rilassarti insomma vieni davvero vieni qui e ti faccio rilassare ti faccio anche un make up proprio giusto per per divertirsi per stare bene per farsi una coccola ok molto bene ti auguro una buona serata e ci vediamo presto ok ciao grazie a tutti Grazie a tutti.